I momenti iniziali non ho citato ma lo faccio con convinzione sia il direttore generale sia il capo del dipartimento valutazioni di Ispra, i colleghi Bratti e Cirillo per aver comunque organizzato questo evento che è un evento in cui come dirò brevemente adesso portando il mio indirizzo di saluto è sì un momento diciamo di riepilogo delle attività ma per quello che ci ha appena detto Francesco la Camera è anche un momento in cui dobbiamo cominciare a pensare all'impegno e alle attività future che sono anche a brevissima scadenza temporale. Io vorrei semplicemente ribadire il ruolo fondamentale che nell'ambito degli strumenti che sono stati messi in piedi e delle politiche per fronteggiare questo tema così attuale dei cambiamenti climatici un ruolo attuale svolto dal monitoraggio delle emissioni dei gas serra a cui come è stato accennato prima dal collega alla Camera provvediamo noi di Ispra a garantirne la predisposizione dell'aggiornamento annuale su specifico mandato del Ministero dell'ambiente attraverso anche indicazioni contenute in due decreti legislativi il 51 del 2008 e il numero 30 del 2013 che come sapete prevedono l'istituzione di un sistema nazionale il cosiddetto national system relativo all'inventario delle emissioni dei gas serra. In più noi come Ispra e come anche previsto dalla Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici per tutti i paesi industrializzati come Ispra documentiamo in uno specifico rapporto il National Inventory Report una spiegazione degli andamenti osservati. Il documento contiene una descrizione delle analisi delle key sources, le principali sorgenti e dell'incertezza associata a queste sorgenti, contiene un riferimento alle metodologie di stima e alle fonti dei dati di base e dei fattori di emissione che utilizziamo per le stime, contiene un'illustrazione del sistema di Quality Assurance Quality Control a cui è soggetto l'inventario e delle conseguenti successive attività di verifiche effettuate sui dati. Il National Inventory Report facilita i processi internazionali di verifica nei quali le stime ufficiali di emissioni di gas serra vengono sottoposte a una valutazione, a una verifica appunto. In particolare vengono esaminate la rispondenza alle proprietà di trasparenza, consistenza, comparabilità, completezza e accuratezza nella realizzazione, qualità che sono espressamente richieste nella convenzione che ho menzionato prima. Si tratta di un lavoro, l'inventario, che viene sottoposto ogni anno ad una review, ad una revisione, da parte di un organismo nominato dal segretariato della convenzione, quindi da un organismo terzo, che analizza il materiale prodotto e presentato dal Paese e ne verifica in dettaglio quelle qualità e la rispondenza a quei requisiti che ho prima menzionato. Nel caso in cui è importante, anche per ragioni di trasparenza, esplicitare brevemente questo processo, nel caso in cui durante il processo di review siano identificati eventuali errori formali nella trasmissione, ovvero stime che non siano state supportate da un'adeguata documentazione, ovvero giustificazione delle metodologie scelte, il Paese viene invitato ad una revisione delle stime di emissione. Se non rispondessimo a questi requisiti, l'Italia, è bene ribadirlo, sarebbe esclusa dalla partecipazione ai meccanismi flessibili previsti dallo stesso protocollo, come il mercato delle quote di emissione, l'implementazione di progetti con i Paesi in via di sviluppo, l'implementazione di progetti congiunti con i Paesi a economia in transizione. Il documento che oggi presentiamo rappresenta inoltre un riferimento fondamentale per la pianificazione e l'attuazione delle politiche ambientali da parte delle istituzioni centrali e locali. Accanto all'inventario dei gas Serra, ogni anno l'Istituto realizza l'inventario nazionale delle emissioni in atmosfera, richiesto dalla Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero e dalle direttive europee sulla limitazione delle emissioni. In più, tutto il territorio nazionale attualmente è coperto da inventari regionali, e per questo ovviamente ringraziamo le ARPA e il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, che sono coerenti sostanzialmente con l'inventario nazionale. Però, nonostante i progressi compiuti e che anche Francesco Lacamera ha ricordato prima, le attività di preparazione degli inventari affrontano continuamente nuove sfide legate alla necessità innanzitutto di considerare ogni anno nuove sorgenti e nuovi inquinanti e poi dalla necessità di armonizzare e di inventare i prodotti per le diverse finalità di polisi. Il contesto internazionale al quale facciamo riferimento per la preparazione dell'inventario nazionale costituisce certamente la garanzia per i requisiti che ho espresso prima, una garanzia di qualità dei dati, per l'autorevolezza dei riferimenti metodologici, per l'efficacia del processo internazionale, autonomo e trasparente di revisione, per la flessibilità nell'andamento alle nuove evenienze, alle nuove circostanze. Da un'analisi della serie storica dei dati dal 1990 al 2016, si evidenzia che le emissioni nazionali totali dei sei gas serra espresse in CO2, in anidride carbonica equivalente, sono diminuite del 17,5% nel 2016 rispetto ai livelli del 1990. In particolare le emissioni complessive di CO2 sono pari all'81,9% del totale e risultano nel 2016 inferiori del 20,4% rispetto al 1990. Mentre le emissioni di metano e di protossido di azoto sono pari a circa il 10% e al 4,2% nel totale e presentano andamenti in diminuzione sia per il metano, meno 11,1%, che per il protossido di azoto, meno 32,1%. Non cito gli altri gas serra perché non essendo un chimico sbaglierei definizioni e contenuti, quindi vi rimando alle presentazioni di dettaglio tra qualche minuto. Vado alla conclusione dicendo che gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra previsti per il 2020 sono in via di conseguimento. Questo è un dato che abbiamo già registrato da qualche anno e che possiamo confermare anche oggi. Mentre quelli previsti per il 2030 potranno essere raggiunti solo attraverso degli impegni aggiuntivi di mitigazione delle emissioni nei settori che maggiormente coinvolgono i nostri concittadini e quindi la popolazione. Penso ai trasporti, al riscaldamento negli edifici. Ovviamente si tratta di operazioni e di investimenti aggiuntivi che pongono seriamente un problema culturale e mettono ovviamente in discussione gli stili di vita e di consumo di ciascuno di noi. Io credo che questa sia in definitiva la sfida più importante che dobbiamo affrontare accanto alle innovazioni tecnologiche, alle metodologie, alla modalità di costruire i nostri rapporti. Dobbiamo decisamente affrontare la sfida culturale di sensibilizzazione dei cittadini rispetto a queste tematiche. Senza comportamenti anche singoli, oserei dire, virtuosi, orientati verso una sostenibilità ambientale concreta le nostre migliori intenzioni, migliori interventi legislativi, le migliori politiche, gli interventi tecnici più efficaci non potrebbero raggiungere i risultati che si prefigono. Allora buon lavoro e grazie ancora per la vostra presenza.